Grazie a tutti per essere qui, grazie a Rizzoli per questa possibilità che dà a me di raccontare quello che faccio e a voi di confrontarci un po' insieme. Come mi ha presentato Chiara, io nasco geologo, detta così sembra una cosa strana ma è vero, non è una cosa brutta. Cosa faccio? Magari tra di voi prima, soprattutto nel coffee break, ho visto dei volti che conosco, che ho intravisto, perché io faccio un lavoro un po' diverso dal vostro, non sono un insegnante, ma ogni tanto ci incrociamo, perché io mi occupo di didattica per il Museo di Storia Naturale di Milano insieme a colleghi, quindi sto giocando in casa tra virgolette oggi e magari qualcuno di voi è venuto a trovarci, ha avuto a che fare con me o con qualche mio collega con i quali ha fatto qualche attività. Allora, questo perché ve l'ho raccontato? Perché il mio lavoro, che è parlare di scienza, noi parliamo di scienza praticamente tutti i giorni, consiste nel farlo in modo veloce, rapido. Noi abbiamo poco tempo con la classe, abbiamo un'ora, un'ora e mezza, e questo ci obbliga a trovare dei trucchi, ma cercare dei trucchi, e a volte speriamo anche di trovarli, che ci permettano di cogliere subito l'attenzione dei ragazzi che abbiamo di fronte. Quindi la mia idea è farvi vedere qualcuno di questi trucchi che normalmente utilizzo. Cosa ho pensato? Beh, ho pensato che la scienza è fondamentalmente ovunque attorno a noi, e la scienza è curiosità, quindi bisogna trovare il modo di incuriosire rispetto alle cose che abbiamo attorno, rispetto al mondo che abbiamo attorno, e ho cercato di trovare un escamotage particolare per coinvolgere, soprattutto i ragazzi, e i giochi, i giocattoli, mi sono sembrati la cosa migliore. Devo prendere la borsa della spesa che mi hanno portato, perché mi sono portato un po' di cosine che potrebbero servirci. Allora, tra i giochi e i giocattoli che si potrebbero utilizzare, ho pensato a quale potrebbe essere quello più vicino ai ragazzi, a tutti, e il gioco per antonomasia è la palla, ok? La palla, tutti da bambini abbiamo dato un calcio ad una palla, la palla poi quando si cresce magari diventa il corrispettivo di uno sport, e ci si appassiona anche a quello sport. E quindi quello di cui voglio pararvi adesso è proprio come utilizzare, come si possono utilizzare palle e palloni per parlare di scienza. Allora, ne vedete tante, football, calcio, golf, allora quella con la forma un po' più strana è il pallone da football. In realtà il pallone da football sembra non darci tante informazioni, perché è una forma particolare, ma vi faccio una domanda, io faccio domande, quindi se volete provare a rispondermi, non dovuti, quindi provateci pure. Il pallone da football, ok? Perché si chiama da football se si gioca con le mani? Ve lo siete mai chiesti? Allora, questa è una domanda che potrebbe cominciare a farvi ragionare su qualcosa. Il pallone da football si chiama così, football, perché è lungo un piede, ok? Adesso abbiamo risolto un sacco di problemi esistenziali. Allora, no, questo perché sembra inutile dirla, però in realtà ci può far pensare alle unità di misura. Le unità di misura, il sistema internazionale e da altre parti del mondo possono usare sistemi di misura che non sono i nostri, però vengono comunque utilizzati e quindi ci permette di introdurre quello che è anche la base del metodo scientifico, ok? Non vi dico altro sul pallone da football, al di là di questa curiosità, perché vorrei passare a quello più grande, tra quelli rappresentati qui, che è il pallone da basket. Sempre il nostro... ok. Il pallone da basket. Sempre una domanda senza voto. Che forma ha? So che avete paura di dirlo, perché quelle di fianco a voi pensano un'altra cosa, ma... Che forma ha il pallone da basket? È una sfera... bravi, giusto. È una sfera, è una sfera. E cosa possiamo fare col pallone da basket? Beh, il pallone da basket... adesso ce l'ho qui, perché vi ho detto che ho fatto la spesa. Allora, il pallone da basket è una sfera. Cos'è una sfera? Una sfera è un solido geometrico che si ottiene per rotazione di una circonferenza. Quindi cominciamo a parlare di geometria. Vedere le sfere e immaginarle come rotazione di circonferenze non è una cosa così immediata. Però cominciamo a vedere che sul pallone da basket, sia in quello che ho in mano, sia in quello rappresentato lì, due circonferenze ben precise ci sono. Ok? Sono visibili, visibilissime. E questo ci permette di fare questo ragionamento, di introdurlo, di misurarle queste circonferenze, perché non possiamo sbagliare, la prendiamo storta. No, è segnata. Quindi la possiamo misurare, da qui possiamo fare i ragionamenti sul volume, quindi raccontare di geometria soltanto con un pallone da basket. Ma vi chiedo un'altra cosa, l'avrete mai preso in mano, immagino, comunque si vede bene nella foto. La sua superficie non è liscia, è ricoperta da pallini. Perché? Per l'attrito, esatto. Perché possa essere afferrata comodamente, perché non scappi durante i rimbalzi sul campo, che è molto molto liscio. Quindi abbiamo parlato di geometria solida, di geometria, quindi costruzione dei solidi, e abbiamo parlato di fisica. L'attrito, ok? Una superficie di questo tipo è migliore per garantire l'attrito, sia con le mani appunto che con il pavimento. Altra pallina. Perfetto. Cambiamo sport. Tennis. Pallina da tennis, molto più piccola della palla da basket. Possiamo farci i ragionamenti che abbiamo fatto prima, è una circonferenza, è una, chiedo scusa, è una sfera, quindi possiamo ragionare su quello. Ma com'è fatta la palla da tennis? Beh, innanzitutto la palla da tennis si ottiene mettendo insieme due semisfere e incollandole insieme, ma la cosa curiosa è questo rivestimento che c'è. Partiamo dal colore. È giallo. Sapete perché è giallo? Non è di tanti colori particolari, è giallo principalmente. Questo perché il giallo è il picco di sensibilità dell'occhio umano. L'occhio umano è maggiormente sensibile al giallo. Quindi una pallina da tennis che deve viaggiare ad una certa velocità, abbiamo visto raggiungono i 140 km all'ora i colpi dei tennisti, deve essere ben visibile. Ovviamente al pallone da basket non serve questo colore. Perché non dipingerla, ma rivestirla? Perché è pelosa la pallina da tennis? Perché rivestirla? Innanzitutto, parlando di rivestimento, abbiamo la difficoltà di rivestire una sfera. Una sfera non la posso rivestire con una superficie piana. Ok? C'è bisogno almeno di due particolari superfici che si intersecano una con l'altra. Ma perché pelose? Di nuovo, questa viaggia veloce deve essere vista e deve essere possibilmente presa dal tennista. Se no, questo la fa rallentare. Di nuovo parliamo di attrito. La peluria, che non è altro che un feltro composto dal 30% di materiale sintetico e al 70% di lana, fa sì che nell'aria viaggi più lentamente. C'è attrito con l'aria, quindi la pallina rallenta. La pallina ha più attrito sulla superficie della racchetta, quindi è più facile indirizzarla. E il rimbalzo a terra, sempre a causa dell'attrito, lo garantisce un rimbalzo controllato o comunque un tiro molto più preciso. Ok? Quindi, le due palline, la palla grande e la palla da tennis, ci permettono di fare un sacco di ragionamenti, che abbiamo già anche introdotto la rivestimento di un corpo sferico, che non è una cosa molto semplice. Ma vado avanti. La pallina più strana, forse, se vogliamo, è la pallina da golf. Perché, abbiamo discusso prima sulla forma, eccetera, la sfera è un qualcosa che rotola facilmente, eccetera. Però la palla da golf non è sferica. La palla da golf è completamente rivestita da tante piccole conchette. Allora, vi racconto una storia. Questo è un... Non è sempre stata così, diciamo, la pallina da golf. La pallina da golf, fino agli inizi del 1900, era liscia. Poi, però, i giocatori di golf si sono accorti di una cosa, che più le palline erano vecchie, ammaccate, rovinate, più giocavano bene. Cosa vuol dire giocare bene a golf? Vuol dire arrivare prima in buca, fare meno tiri, e per farlo vuol dire che devo tirare più lontano. Si sono accorti che le palline da golf, ammaccate, volavano di più di quelle lisce. Questo è stato un problema perché le fabbriche che si occupavano della costruzione delle palline da golf hanno cominciato a non vendere più. Perché nessuno comprava palline nuove. Perché con la pallina nuova vincevi meno rispetto alla pallina vecchia. Allora hanno cercato di ragionarci e hanno deciso di vendere palline già ammaccate. La risposta era abbastanza semplice. Ovviamente dietro questo ragionamento non c'è soltanto una scaramanzia, meglio la pallina vecchia, ma la pallina da golf viaggia molto meglio se ha una superficie ricoperta da fossette, questo è il termine corretto, piuttosto che ammaccature, per questo motivo qui. Quando la pallina vola nell'aria, comprime l'aria davanti a sé, produce un'alta pressione davanti a sé la pallina. Quest'alta pressione coincide con la formazione di vortici dietro di sé. La pallina sta viaggiando da destra verso sinistra. Questi vortici producono una bassa pressione. La bassa pressione risucchia. E quindi questa bassa pressione tende a risucchiare indietro la pallina. La pallina rallenta. La formazione di fossette sulla sua superficie produce una serie di tantissimi microvortici, che riducono il vortice posteriore. Questo fa sì che ci sia meno risucchio e la pallina possa viaggiare più lontano. In realtà non è la pallina vecchia o ammaccata che viaggia di più, è quell'altra che viaggia di meno, per assurdo. Perché questo discorso? Questo ci permette di chiacchierare sulle pressioni, sulle variazioni di pressione. E questo ci può portare anche allo spostamento delle masse d'aria. Le masse d'aria si muovono da zone ad alta pressione e da zone verso bassa pressione. Quindi movimenti. Quindi stiamo parlando anche di clima con una pallina da golf. Ma tra tutte le palle che vi ho mostrato prima non ho ancora parlato del pallone per antonomasia, che è il pallone da calcio. E vi rifaccio la stessa domanda che ho fatto prima. Occhio. Che forma ha? Che forma ha? E qua adesso cercano su internet la forma del... No, vabbè, 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 vabbè. Non voglio creare precedenti pericolosi. Allora. Ah, no, scusate. Stavo dimenticando. Cioè, visto quello che vi ho raccontato, non lamentatevi più di quando la macchina viene colpita dalla grandine. Perché più buchi c'ha, meglio viaggiate. Vabbè, e questa era una battuta di cui mi stavo dimenticando. Comunque, ecco la forma del pallone da calcio. Il pallone da calcio non è una sfera. Ok? Il pallone da calcio è in realtà un icosaedro. Cos'è un icosaedro? È un solido geometrico costituito da 20 facce. E se lo guardiamo, queste 20 facce sono particolari. Non sono tutte uguali. Alcuni sono esagoni, alcuni sono pentagoni. Tassellamento di una superficie sferica. Io non posso tassellare il piano con un esagono, un altro esagono e un pentagono. Non lo chiuderò mai. Sulla sfera questo funziona. Non voglio andare troppo nel complicato sulla geometria sferica, ma questo vi fa anche fare dei ragionamenti sugli angoli. Vuol dire che gli angoli in una sfera non coincidono con gli angoli nella geometria piana. In ogni caso, il problema di avere un pallone da calcio così stava proprio nel fatto dell'impossibilità di ottenere una superficie sferica perfetta. E il pallone da calcio è più o meno così dagli anni 70. L'idea però, da quando è nato questo pallone da calcio, è stata quella di migliorare sempre di più la sfericità di questo pallone. Il massimo, forse qualcuno di voi se lo ricorda, è stato raggiunto con i mondiali del 2010, con quel pallone che si chiamava Giabulani. Il massimo della sfericità possibile, almeno per quanto se ne sapeva fino a quel momento lì, è stato un disastro. Quel pallone non andava bene. In che senso non andava bene? Perché i calciatori non riuscivano a mandarlo dove volevano e quando arrivava verso la porta, i portieri non avevano la minima idea di cosa facesse quel pallone. La domanda è perché. Il motivo è semplice. La sfera non funziona in volo. Mentre una superficie che non è perfettamente sferica funziona. Che cosa vuol dire? Che il pallone ha bisogno di qualche cosa sulla sua superficie per permettergli di attaccarsi all'aria, di sfruttare l'aria su cui si trova. E la sfera perfetta non lo fa, o perlomeno lo fa con molta fatica. Mentre tutte queste irregolarità sulla superficie permettono a Pirlo di fare quella particolare punizione chiamata maledetta, che comunque fa impazzire i portieri, ma non è per colpa del pallone, perlomeno. Allora, il pallone, quindi, il pallone da calcio, oltre al tassellamento della sfera, problemi di portanza, di aerodinabilità, di aerodinamica, scusate, ci permette di fare un'altra cosa. Perché se noi cancelliamo gli esagoni e i pentagoni e lasciamo soltanto gli spigoli, allora entriamo nella chimica. Questa è una molecola che si chiama fullerene, è strutturalmente simile alla grafite, solo che è sferica, o perlomeno sferica quanto il pallone da calcio di prima. Normalmente la grafite fa soltanto esagoni, ma come abbiamo detto, gli esagoni permettono di tassellare il piano, non la sfera, e la presenza invece di anelli di carbonio esagonali o etagonali, o comunque con numeri diversi dall'esagono, fa sì che queste molecole si attorciglino su loro stessi, cambiando appunto la forma che si ottiene. A proposito, abbiamo parlato di palloni perfettamente sferici, ma non solo, perché anche questi sono palloni, palloncini, e cosa ci possono raccontare questo? Se ho ancora affiato lo gonfio, andata bene, lo annodo, Difficile trovare una particolare forma o giocare sulla geometria qui, però possiamo fare qualcosa che in un certo senso sfocia quasi nell'illusionismo, nella magia. Prima abbiamo giustamente sentito parlare della differenza della pressione, quindi una vite buca il palloncino, tante viti invece con una distribuzione e quindi della pressione non lo fanno, io invece il palloncino lo voglio bucare, ok? Ma non doveva esplodere. Rifacciamo. Scusate, ma... Grazie. Grazie, per favore tieni questo mentre gonfio il palloncino. Molto bene, grazie. No, no, fatto. Fatto, fatto. Era solo... Grazie. Grazie per la fiducia. Ok, rifaccio. Stavo dicendo buco il palloncino. Questa volta abbiamo dimostrato quello che ha detto prima la collega, che la pressione in un punto lo fa scoppiare. Grazie. Grazie. Ok. Non è scoppiato. Ora, perché? Non volevo assolutamente dimostrare il contrario di quello che ha detto la collega, anzi, era correttissimo. In realtà, questo giochino ci permette di fare un'altra cosa, non tanto di parlare di pressione, ma di parlare di elasticità, di parlare di come è fatto il palloncino. Questo è possibile perché la gomma del palloncino è un polimero, quindi possiamo parlare di polimeri, monomeri, polimeri, eccetera. È una catena che si divide e che si apre e che può stendersi. La vediamo qua. Ok. Si può stendere, si può aprire e se ha un'elasticità residua può richiudersi senza esplodere, a differenza di quello che ho detto prima, ma quella è colpa mia che ho gonfiato troppo il palloncino. Quindi, possiamo anche parlare di elasticità facendo magari un qualcosa che sembra un trucco di magia, ma che magia in realtà non è. Adesso però, prima di cambiare totalmente argomento, riprendo la palla da basket. C'è l'ho qui, a questa altezza, la faccio rimbalzare. Perfetto. La palla rimbalza e ritorna su. La cosa interessante è che non torna nel punto in cui è partita. possiamo rifarlo. Non arriva all'altezza da cui è partita. La domanda è come mai? Proviamo a farlo con un'altra pallina. Palla da tennis. Stessa cosa, più o meno stessa altezza della palla da basket. La pallina, di nuovo, non torna su. Partiamo dal presupposto che se la palla si è mossa vuol dire che aveva una certa energia. Ma da dove la prende questa energia? Beh, questa energia è un'energia di posizione, è un'energia potenziale. questa energia permette alla palla nel momento in cui la mollo di muoversi, viene trasformata, cambia e diventa energia cinetica e nel momento in cui tocca terra questa energia permette alla palla di risalire ma non risale fino al punto in cui è partita. La domanda che possiamo farci è perché? La risposta è perché parte dell'energia non è scomparsa ma è diventata qualcos'altro. È diventata calore nel punto in cui ha toccato il pavimento e in parte ha permesso la deformazione della palla. Ma perché la palla da basket e la palla da tennis pur partendo dalla stessa altezza non arrivano tornando su entrambe alla stessa altezza o perlomeno la palla da basket sale di un tot la palla da tennis sale molto meno. L'altezza è la stessa la attrazione gravitazionale è la stessa cambia la massa quindi possiamo permetterci di fare dei ragionamenti su come è fatta l'energia potenziale che dipende sì dall'altezza dipende sì dall'energia gravitazionale ma dipende anche dalla massa dell'oggetto che stiamo sfruttando che stiamo utilizzando. Piccola curiosità adesso ho bisogno di due mani ok ok cos'è successo? a questo punto abbiamo visto una cosa strana abbiamo fatto due esperimenti prima entrambi tornavano su ad un'altezza minore questa volta è successo qualcosa di strano questa volta la pallina da tennis è schizzata via è schizzata verso l'alto le energie si sommano l'energia che la palla da basket avrebbe avuto aveva per tornare su in realtà è stata data è passata alla pallina da tennis che ha sommato quindi la sua energia con quella che ha ricevuto dalla palla da basket producendo una energia cinetica maggiore quindi dando di una velocità maggiore e alzandola riportandola ad una quota massima molto più elevata il giochino si può fare con tante palline diventa pericolosissimo perché se riuscite davvero a farlo con tante palline usciamo dal teatro e quindi eviterei in questo momento quindi quello che vi stavo dicendo è questo qui vediamo dei numeri ma non serve stare a parlare di numeri quindi si può parlare di energia potenziale di energia cinetica cambio argomento tutti penso conosciate questo questo gioco quindi abbandoniamo le palle e passiamo a questo posso tenerlo in mano passiamo a un videogioco un videogioco famosissimo che ha venduto più di cento milioni di copie ma si è sempre di semplice il fatto che non è mai stato brevettato nasce nell'84 e che cosa ci permette di fare? beh il tetris è un gioco che si basa su queste sette forme particolari queste sette forme che cosa sono? queste forme si chiamano tetramini un tetramino è una possibile disposizione di quattro in questo caso sono cubetti ma sullo schermo diventano diventano dei quadrati di quattro quadrati uniti per i lati e i sette che vedete sono tutte le possibili combinazioni fatte con quattro quadrati ok? quindi geometria traslazione dei quadrati spostamento diversità delle varie forme il in cosa consiste il tetris queste forme cadono dall'alto e si vince o perlomeno bisogna riuscire a completare una fila sullo schermo quando questa fila si completa sparisce se la fila non si completa resta lì ma non finisce lo spazio che si è a disposizione e si perde ecco questo si perde è interessante perché a livello statistico è impossibile vincere a questo gioco quindi ti diamo in bado la statistica perché? perché queste sette figure sono perfette per tassellare lo spazio se sono alternate ma se cominciano a essere solo e soltanto quelle chiamate S e Z allora lo spazio non si tassella più ed è statisticamente ovvio che ci sarà una serie di S e Z che cadranno contemporaneamente una dopo l'altra nello schermo e ci impediranno di tassellare di completare tutte le linee quindi di nuovo tassellamento dello spazio traslazione un'altra cosa interessante è che qui avete le rotazioni e le traslazioni nello spazio perché questi tetramini possono essere mossi e girati un po' come potrebbe servire a chi sta giocando qui ci sono due personaggi questi due personaggi allora entrambi hanno fatto cose difficili tutti e due ma noi ci concentriamo soltanto su uno che è il signore a sinistra famoso per questo allora giusto per avere un'idea per statistica quanti di voi hanno giocato con il cubo di rubik ok tenete sulle mani eh quanti di voi l'hanno completato ok quanti di voi l'hanno fatto scambiando gli adesivi bravi ecco allora lasciamo perdere gli adesivi allora il cubo di rubik è un famosissimo rompicapo che è nato per caso perché è nato per la necessità di costruire un cubo i cui le cui parti fossero facilmente movibili nello spazio che cosa fa il cubo di rubik permette anzi ha uno scopo che è quello di completare le sei facce del cubo tutte con lo stesso colore tutte cromaticamente corrette ok questo è un lavoro per alcuni visto che le mani sono scese che sembra impossibile tutte queste possibili rotazioni nello spazio movimenti traslazioni dei cubi portano a circa 43 mila scusatemi 43 miliardi di miliardi di combinazioni ma la cosa interessante è che non serve andare a caso il cubo di rubik si risolve in modo estremamente facile seguendo dei passaggi ben precisi quindi compiendo dei movimenti delle traslazioni delle rotazioni ben precise seguendo una sequenza ora il problema è capire la sequenza ma tranquilli che ci sono su internet tutte le sequenze da fare a seconda del colore però la cosa interessante è che vi permette di parlare di processi di coding quindi dovete ripetere sempre quelle quelle indicazioni continuamente nel tempo seguendo un certo schema e questo vi permette ovviamente di arrivare a completare l'intera faccia del cubo quello che ho cercato di raccontarvi qui facendovi qualche esempio particolare è un po' quello che cerco di fare torno a quello che ho detto all'inizio cioè concentrarci su un oggetto particolare su un esempio particolare una situazione particolare della vita quotidiana abbiamo usato i giochi ma si può fare quasi qualunque cosa ovviamente variano le difficoltà e variano i concetti che si possono esprimere ma questo può essere un aiuto non deve essere questo totalmente il sistema ovviamente ma può essere un aiuto per cominciare ad accendere una scintilla un qualcosa nella testa della persona o di chi avete di fronte per cominciare a dargli quello che è il metodo scientifico parto da un qualcosa lo analizzo lo vedo cerco di capire cosa fa perché è fatto così e poi come si comporta ok allora a questo punto io vi ringrazio per aver tra virgolette giocato con me se avete qualche domanda sono qui se no sappiate che più o meno questo è il metodo che potreste trovare che abbiamo cercato di mettere nel libro in cui abbiamo collaborato che è appunto Mosaico Scienze edito da Rizzoli da Fabri grazie mille grazie mille